Siamo a Pesaro, al centro La Fenice, in via Cassiani. Con noi c'è la dottoressa Chiara Lodovici, che ci parlerà del convegno che si terrà a Urbino, la tavolozza dell'essere. È un convegno verso l'esplorazione di sé. Perché la tavolozza dell'essere? Ma la tavolozza dell'essere, questo nome è stato dato perché siamo cinque professioniste e ognuna delle quali porta come una tavolozza, ognuno ha un suo colore, una sua disciplina, un suo sapere. Quindi comunque il nostro intento è proprio quello di far arrivare quelli che sono i nostri strumenti, la nostra conoscenza e dalla fusione di queste diverse conoscenze poi creare un unico sentiero, un'unica strada, un unico percorso che è quello del benessere, dell'esplorazione verso se stessi. Te farai, alla scoperta della tua anima, nel preciso, nello specifico, cosa consiste? Io, essendo psicologa, mi occupo prevalentemente di quello che comunque è la scoperta di se stessi attraverso varie fasi. Io, per esempio, mi occupo di consapevolezza emotiva, training affermativo, quindi l'autostima, i chakra, situazioni che riguardano la psicosomatica. Unendo questi diversi tipi di conoscenze e di corsi parlerò di tutto questo, anche movimento espressivo, quindi la danza, in particolar modo l'olodanza, che è una forma evoluta di danzaterapia. Quindi spiegherò un po' tutto quello che è il percorso che ho fatto e quelle che sono queste strutture, insomma, diciamo, che sono sempre strumenti per entrare dentro di sé. E quindi i corsi, a chi li proponi in particolare? I corsi sono aperti a tutti, io lavoro dagli adolescenti fino a persone comunque chiaramente più grandi, perché comunque non c'è un limite di età, insomma, chiunque ha piacere di prendersi cura di sé, di incominciare ad amarsi o riamarsi, è benvenuto, insomma, è ben accetto. Quindi vi aspettiamo tutti al convegno e quando è? Ce lo ricordi? Sì, allora, il 18 di novembre e sarà appunto all'Urbino Resort Santi Giacomo e Filippo e quindi ci sarà la mattina la parte teorica dove ogni professionista spiegherà quello che è comunque appunto la sua conoscenza, la sua professione e poi a pomeriggio ci saranno i laboratori. Quindi vi aspettiamo numerosi e speriamo, insomma, che vi possa piacere. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.